c'è una parola che è sulla bocca di tutti ma nei fatti di pochi sto parlando della resilienza sicuramente se hai fatto delle ricerche in merito alla crescita personale hai approfondito l'argomento prima o poi sei incappato in questo termine resilienza che ripeto è nella bocca di tanti nei fatti di pochi e oggi voglio raccontarti quello che è il mio punto di vista come sempre ci tengo a precisarlo non sono un esperto di crescita personale se stai cercando un guru di crescita personale è un super mega esperto ti basta fare una ricerca su google su youtube e ne trovi a valanghe tuttavia sul mio canale essendo che ho approfondito e approfondisco queste tematiche mi piace condividere quelle che sono le mie riflessioni quelli che sono i miei punti di vista e quindi spero che ti faccia piacere e che troverai utile questo video se così fosse ti voglio chiedere due cose che per te richiedono veramente pochissimo tempo ma che per me sono importantissime la prima è quella di iscriverti al canale stiamo crescendo stiamo diventando tantissimi e oltretutto in agosto sto pubblicando un video al giorno quindi c'è veramente tantissima formazione gratuita la seconda se il video ti sta piacendo aiutiamo l'algoritmo lasciando un bel like sul pulsantone qui sotto in modo tale che tantissime altre persone che possono essere interessate all'argomento vedano questo video bene oggi parliamo di resilienza che come ho già detto è una parola super mega abusata super mega utilizzata ma poi nei fatti veramente poco impiegata cioè sono veramente poche le persone che poi quando i tempi si fanno duri riescono a sfruttare la resilienza a proprio favore quindi che cos'è la resilienza beh potremmo dirlo in modo semplice e comprensibile a chiunque come la forza di resistere quando le cose vanno male e non parlo di una giornata non parlo di un'ora parlo di almeno un medio lungo tempo ok chiaro potrebbero esserci dei picchi dove la resilienza è importante magari un infortunio in quel momento specifico o un no ricevuto in modo molto pesante in quel momento che ovviamente richiede un grande effort un grande sforzo in termini di resilienza quindi perché è una parola super usata è una parola super usata perché nella crescita personale acquisito tantissimo potere recentemente perché è una parola che piace perché pensiamoci tutti noi vorremmo essere fortissimi nei momenti di difficoltà non deve per forza essere lato business può essere anche lato relativamente a una relazione magari vuoi chiudere una relazione tossica e per quanto ti riprometti di farlo non ci riesci e quindi ovviamente tutte le volte che ci provi finisci per fallire e ritornare sui tuoi passi se invece riuscissi a essere forte chiaramente magari chiuderesti quella relazione prima ok esempio molto semplice e molto pratico ma che fa capire perché la resilienza è così ricercata da tutti perché tutti noi vorremmo essere capaci di affrontare magari con uno schiocco di dita una situazione negativa una situazione che ci fa soffrire per un successo futuro ok perché perché la resilienza importante è perché io ho imparato ad accoglierla piacevolmente all'interno della mia vita come ti ho già anticipato non sono un esperto di guru quindi quello che ti sto condividendo oggi è praticamente una chiacchiera tra amici sulla base di quelli che sono i miei studi sulla base di quelle che sono le mie esperienze la resilienza è un concetto che ho incontrato presto con Kobe Bryant che purtroppo oggi non c'è più ma che è uno degli sportivi che preferisco da quando sono bambino e lui è proprio una delle enigme della resilienza quante volte ha giocato nonostante infortuni quante volte ha tenuto duro nonostante le condizioni non erano favorevoli la resilienza è un argomento che ho approfondito molto e che ho invitato e accolto braccia aperte nella mia vita perché è una grande lezione in realtà che dobbiamo apprendere ovvero riuscire a resistere nei momenti no che possono essere appunto in qualsiasi sfera ragionando e puntando la nostra attenzione sul beneficio futuro perché infatti la resilienza entra veramente in gioco quando stiamo parlando magari di dire no oggi a qualcosa per un futuro migliore ora sul canale per esempio ho parlato tante volte di eliminare le persone negative dell'isolamento per la carriera di business e sicuramente molte persone non riescono a auto isolarsi perché non riescono a dire magari di no oggi a certe persone a tagliare certi ponti perché non riescono a proiettarsi sul beneficio futuro oppure quel beneficio è troppo futuro ovvero rinunciare magari ad oggi delle amicizie per 3 6 12 mesi è tantissimo anche se questo magari gli permetterebbe di cambiare totalmente loro mindset e non ci riescono ovviamente ognuno di noi ha un proprio punto di difficoltà per esempio magari per me l'auto isolamento è abbastanza facile ma ci sono altre cose magari dove devo appellarmi necessariamente alla resilienza e proiettare la mia mente sul beneficio sul medio lungo termine ora perché a mio avviso è diventato così complicato essere resilienti al di là di usare la parola per moda perché oggi su moltissime sfere siamo abituati a ricevere un gratificamento immediato pensiamo per esempio ai social pubblichiamo una foto su instagram ci arrivano immediatamente like bene sappiamo che quella foto piace e per quanto possiamo dire a noi non interessa eccetera eccetera tutti noi tutti i nostri ego ovviamente davanti ai complimenti ragazzi inutile dire stupidaggini davanti a dei complimenti siamo tutti contenti e davanti a un'offesa ci rimaniamo tutti male quindi per esempio i social hanno contribuito molto nella ricerca di un appagamento immediato e la resilienza non va sicuramente di pari passo con questo ecco perché è importante svilupparla ed ecco perché ecco perché è importante svilupparla ed ecco perché ho lavorato molto sulla resilienza vi consiglio di fare altrettanto ora qual è il primo trucchetto per riuscire a sviluppare la resilienza allora sicuramente la prima cosa da tenere in considerazione è quella di accettare la resilienza perché se noi continuiamo a rimargli contro potremmo dire così e ogni volta che succede qualcosa cerchiamo la gratificazione immediata non si può parlare di resilienza perché in realtà non siamo resilienti in quel momento stiamo cercando solamente la via più facile per stare meglio quindi sicuramente la prima lezione che ho imparato sulla mia pelle è quella di accogliere la resilienza e sapere capire apprendere che fa parte del processo il secondo tips il secondo suggerimento che voglio condividere questo oggi con voi è che la resilienza si fa parte del processo ma soprattutto noi dobbiamo proiettarci come ho già detto nell'ottica del medio lungo termine sapere essere consapevoli questa parola è molto importante essere consapevoli che il sacrificio che stiamo facendo oggi ci ripagherà in futuro nella misura che noi vogliamo o meglio se io so che voglio migliorare drasticamente il mio mindset che non voglio più essere interferito da persone esterne da influenze esterne e lavorerò molto sull'isolamento sul mindset sulla crescita personale è chiaro che inizialmente magari avrò un periodo un po down mi troverò solo se sono una persona che prima ero circondato di persone chiaramente non sarà la stessa cosa tuttavia se ogni giorno mi ripeto che sto facendo questo per un motivo e quel motivo è ciò che voglio beh ovviamente saremo più invogliati a tenere duro chiaramente come tutte le cose ragazzi ci vuole allenamento e bisogna essere tenaci e costanti per cui è chiaro che se provate una volta due volte poi dite ah no non funziona abbandonate tutto e vi convincete che essere resilienti non serve a nulla è vero che abbiamo un background di solamente uno o due episodi queste due lezioni che possono sembrare scontate sulla carta in realtà sono quelle che mi hanno permesso di riuscire a resistere anche in momenti molto bui anche nella mia sfera personale quindi sono contento di condividerli quest'oggi con voi e spero che li abbiate trovati utili se ancora non l'avete fatto io vi invito a iscrivervi al canale arriveranno altri video come questi quindi ci vediamo nei prossimi dalle violenze è tutto ciao ragazzi